Vi faccio questo video per informarvi di una attizia, di quelle che è spettacolare, mi è salita la febbre, sto con la febbre, non posso registrare in questi giorni, c'è la sfortuna proprio adesso mi doveva assistere, porco cane, io raga non so quando tornerò a caricare video, Stamattina ho caricato avete visto l'episodio del Tekken ma, puff, per un colpo di sfortuna subito dopo il video mi è salita la febbre, maledizione, raga non so per quanto tempo dovrò stare senza far video, comunque cercate di capirmi, non ce la faccio proprio a registrare, Spero di rimettermi quanto prima per potervi fare il prossimo video, anche se no qua finisce male, non voglio passare quello che ho passato l'anno scorso, che è meglio che non ve lo racconto, ma questa è un'esperienza orribile quello che ho passato l'anno scorso, Comunque ragazzi, che vi devo dire, spero che ce la facciate a resistere qualche giorno, se non qualche settimana senza che faccia un video, spero che possiate a resistere, io vi saluto e ci rivediamo quando sarò guarito.